Non è accettabile che ci sia un amministratore come il sindaco di Saronno minacciato nella propria incolumità e minacciato di morte da militanti antagonisti come quelli del centro sociale Telos. Ho assistito io stesso a queste minacce e ne sono stato oggetto. Ritengo che la misura sia colma. Evidentemente l'amministrazione del sindaco Fagioli ha portato una ventata di legalità che dà fastidio. Noi siamo con lui e gli facciamo sapere che le istituzioni gli saranno accanto, perché la legalità deve prevalere e i violenti del centro sociale Telos debbono essere, se serve, incarcerati ma comunque non è caso messi alla porta della comunità di Saronno.